Ciao a tutti, benvenuti sulla Marco Zolo TV, sono Michael, è appena finita Atalanta-Inter, l'Inter batte l'Atalanta a Bergamo per 3-2, gara dai due volti, primo tempo Inter male, malissimo, una squadra senza capo, né coda, senza fare due passaggi di fila, l'unico che faceva dei gran passaggi, anzi dei gran lanci lunghi, molto precisi, era un'Ada, che dire, primo tempo vergognoso, perché il primo tempo veramente l'Inter a parte i gol non è sceso in campo, rigore per l'Atalanta nettissimo, dovrai fare un intervento che forse è in terza categoria, però quest'anno si sa che dovrai in netto calo, e poi figlio primo tempo, inizia secondo, tutta altra cosa, per 20 minuti l'Inter fa una buonissima partita, facendo due golle e avendo altre, creando altre due azioni molto pericolose, però cosa succede? Come sempre, cala la concentrazione, prendiamo 3-2 e non solo, il nostro mister, il grande Simone Zaghi decide di togliere Lautaro e mettere Correa, perché sa che il nostro mister legge le partite come io leggo la gazzetta, uguale, e quindi rischiamo, perché rischiamo di subire anche il pareggio, per fortuna non va così, contro l'Atalanta, che secondo me non arriverà tra le prime 4, sta facendo un gran giro, un gran giro in andata, ma non ha i giocatori, e nonostante tutto abbiamo sofferto molto, non possiamo prendere 2 gol a partita, perché noi prendiamo 2, barra 3 gol a partita, con questa difesa non vai da nessuna parte, quindi, tu vuoi giocare sbilanciato? Ok, prendi 3 gol a partita, per vincere devi fare sempre 4-5, dovresti fare come col Barcellona, giochi indietro, parti in contropiede, è normale, a Barcellona hai avuto anche un po' di sfortuna, perciò hai preso 3 gol, poi giochi con Lewandowski, contro Fati, Depay, comunque una buonissima squadra, però facendo così rischi di meno, in contropiede comunque hai tante soluzioni, in casa col Barcellona non hai preso gol, quindi, benedetta sosta, a ritorno avremo Napoli, quindi altra partita tosta, e speriamo che la sosta serva a tutti per riordinare le idee, perché in casa Inter le idee sono poche e confuse, vi saluto, ciao a tutti da Mike